Grazie a tutti Grazie a tutti Questa che era a Rio O c'è un altro passaggio Ci siamo Vai, vai, vai Vai, parti, 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 parti Respira, respira Non stai per terra che peggio Bravile Guarda, parti, parti Guarda, parti, parti Guarda, parti, parti Stai un po' d'acqua Mi mancano qualche rotella Questo che, l'arrivo? L'arrivo, va bene Questo è facile Dai tutto Dai tutto meno un giro Dai tutto meno un giro Ecco, primo e secondo Davide diceva che è una piana C'è questa macchinetta C'è una piana Forza Cristian E questo poi è l'arrivo Ancora? Ancora? Davide diceva che è il numero Davide Davide 23 E' il 53, il 93, il 93, il 93. E' 82 questo, è 82 caro, questo è più doppiato, 82 doppiati, non mi sbagliate. E' 82 questo, è 83 caro, questo è più doppiato, è più doppiato, è più doppiato, è più doppiato, è più doppiato. Sulle mani. Vai Sandro! Attenzione lì! Parti, non parti fermo, fallo correre fino alla fine, parti un pochetto, vai 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 vai! 33! 33! E' l'ultimo anche? Senta! Aspetta! Arriva poco! Devi tagliarli eh! Senta qua arrivato! Ultimo! Senta qua! Senta qua! Eccolo! Dovrebbero essere questi no? No! 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 Volta! No! 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 grazie dai 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 Grazie a tutti.